Non ti dico quanti millimetri, diciamo che poi con l'esperienza di video spettivo è che il gioco venga schiacciato in due parti. Quello che noi chiamiamo filtro, in realtà solo il supporto lo lascia passare, ma il filtro è veramente solo una buccia dei gradi, quindi la macinazione influenza molto l'efficacia dell'ambientazione. Non ho nessuna buccia da guardare. Facciamo una piccola prova, fino per insieme. Mi impacca la filtrazione con basuma, tutti i testi che siete.